Ballando con le stelle, stiamo con il simbolo di questa trasmissione, Millie Carlucci, impegnata per Ballando on Tour. Che bilancio traccia di questa esperienza? Un'esperienza esaltante, meravigliosa. Bastava essere ieri a Casa Massima, al centro della Galleria Auchan, per rendersi conto di quale passione uno incontri in giro per l'Italia, non solo tra i professionisti, ma proprio tra gli appassionati del ballo, che sono una marea, cominciano a tre anni e non smettono più anche a 90 anni, 100 anni, veramente finché le gambe ti consentono di fare qualche passo, questo è. Ed è positivissimo perché è un'iniezione di entusiasmo anche per noi, quindi noi, come dire, assorbiamo energia dall'entusiasmo della gente. Ecco, c'è qualche talento che l'ha impressionata? In tutta Italia e anche ieri, oggi abbiamo un'altra giornata ancora da passare lì, ma tantissimi talenti, anche tra la gente, diciamo, della quarta età, anche tra quelli grandi, veramente grandi, perché poi se uno comincia a ballare, che ne so, a 30 anni, a 40 anni e poi continua a 50 anni fino ai suoi 90, certe cose non le perdi più e hai una classe, una sicurezza particolare, ma poi talenti nell'hip hop, talenti in uno stile particolare che si chiama, ieri è arrivato questo ragazzo che è un'acrobata, un'acrobata vero, cioè fa dei salti mortali che è una cosa pazzesca, in più li fa sulle scarpe col tacco, altissime, da 20 centimetri e con la suola rigida, che è diverso dal fatto di usare una scarpa dove tu puoi piegare il piede. Come si fa ad arrivare da un salto mortale all'indietro su una roba così alta e così rigida? Veramente è un, non lo so, un funambolo della danza, davvero. Torniamo a parlare del programma, pochi mesi al via, qualche anticipazione, qualche novità quest'anno? Beh, intanto l'inserimento di un torneo che sarà proprio dedicato agli appassionati che noi avremo scoperto in questo nostro Giro d'Italia. Dopo la quinta puntata ci sarà questo torneo della gente comune che noi inseriremo nel tessuto della puntata di Ballando, continueranno sempre le celebrità, i maestri eccetera, ma ci sarà anche questo. Adesso poi dopo Natale avremo anche lo scioglimento della questione Platinette, se Platinette riuscirà ad entrare nel cast, perché dipenderà dal suo essersi rimesso in forma e Mauro ci sta lavorando da mesi e sta facendo un percorso non facile perché insomma il suo non essere in forma non era una roba da qualche chiletto da smaltire, era una cosa seria, medica, ha fatto un intervento allo stomaco per mettere il palloncino, insomma questo non è che lui l'abbia fatto per Ballando, l'ha fatto per se stesso, però ha detto se tu mi dai l'opportunità di dire posso aspirare a Ballando, questa è una motivazione forte per me che mi aiuterà a non cadere in tentazione, anche perché a quel punto l'avrò detto davanti a tutti gli italiani che io tento di fare sta cosa e io gli ho detto Mauro felicissima di aiutarti, se tu ce la fai io sono la persona proprio, spalanco la finestra e faccio un urlo di gioia proprio, speriamo che ce la faccia. C'è qualche ballerino che sogna di avere in trasmissione, qualche nome in particolare? Tanti, il cast è aperto in questi giorni quindi nel momento sono col cerotto sulla bocca perché ovviamente ci stiamo lavorando a tante cose, molti sono i desideri e chissà che non riesca quest'anno ad acchiappare a qualcuno di quelli impossibili negli anni passati. Ecco una battuta finale, siamo vicini a quest'albero di Natale, come sta preparando per le festività e cosa spera di trovare sotto l'albero come regalo? Io veramente sotto l'albero, quello che mi auguro, ma non è il solito discorso, sai che si fa sempre abbastanza banale, io spero per tutti la pace nel mondo, il problema è che questa che sembra una frase di routine, oggi è diventata una drammatica attualità, noi stiamo attraversando un periodo terribile dove se tu solo pensi all'ansia che ti mette tutto quello che ci sta succedendo e che può colpirti da un minuto all'altro, veramente tu dici porca miseria non si vive più, ma che mondo diamo ai nostri figli? Quindi veramente la risoluzione di questi problemi e il desiderio di continuare ad avere qualcosa che ci faccia sorridere, ecco questa è la cosa che io vorrei trovare sotto l'albero. Tutti quanti noi insieme risolviamo questo problema che ci sta attanagliando, ma soprattutto non dimentichiamoci di trovare delle piccole angoli di sorriso nella nostra giornata. Io che faccio il ballo, dico che il ballo può essere un grande momento di sfogo per trovare un po' di serenità in una giornata occupata da tante preoccupazioni, però se avete una passione coltivata è il momento di farlo. Grazie a tutti.